Prima viene Dio, e dopo di Dio vengono tutte le altre persone e cose. E poi dobbiamo essere giusti con gli altri, onesti, rispettare gli altri, non essere violenti, non giudicare, aiutare ed essere sensibili verso gli altri. Quindi ricordarvi, la prima cosa che San Giuseppe ci insegna è la giustizia. Giustizia con Dio e giustizia con gli altri. Giustizia con gli altri e con gli altri. Giustizia con gli altri. Giustizia con gli altri.